ciao benvenuto sul canale di dolci viaggi leggeri in questo video ti racconto come preparo le frappe di carnevale croccanti ma cotte al forno eccole sono buonissime premetto che la ricetta che ti darò è alcolica ma potrai tranquillamente sostituire 6 cucchiai di prodotto alcolico con della semplice acqua ti consiglio però in questo caso di raddoppiare la quantità di limone grattugiato per dare un maggior aroma ecco gli ingredienti 300 grammi di farina una bussina di vanillina 3 cucchiai di zucchero circa 75 grammi mezza bussina di lievito la buccia grattugiata di mezzo limone 5 cucchiai d'olio 6 cucchiai di rum o il kermes o caffè in alternativa come ti ho detto prima anche solo acqua va bene e poi l'acqua quanto basta per decorare circa 100 grammi di cioccolato fondente zucchero a velo quanto basta e se vorrai anche delle codette colorate oppure quello che più preferisci pronti partenza via prendi una ciotola inserisci all'interno la farina ed aggiungi la vanillina lo zucchero io utilizzo quello di canna ma qualunque tipo andrà bene e lievito poi mescono un pochino questi ingredienti unisci la buccia di limone grattugiata l'olio il rum io utilizzo il pampero e poi mescola nuovamente versa poca acqua nel composto e cerca di impastarlo prima con un cucchiaio e poi con le mani se serve aggiunge altra acqua deve risultare così un panetto liscio che non attacca a questo punto prendi un foglio di carta forno ponici sopra poco impasto e copri con un altro foglio di carta forno prendi un mattarello stendi l'impasto deve risultare molto sottile come puoi vedere in video poi prendi un coltello e regola i bordi taglia tutto quanto a striscia della grandezza desiderata rivesti una teglia con un foglio di carta forno versaci un pochino di olio e stendilo con un pochino di carta da cucina prendi le strisce di impasto e adagiale sulla teglia ecco qui stai vedendo la prima teglia al completo in tutto ho preparato tre teglie con le dosi che ti ho dato con le dita spingi verso l'esterno l'impasto per farlo risultare ancora più sottile vedi come sto facendo io le strisce adesso sono molto più sottili di prima come puoi vedere devi infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 13 14 minuti comunque dopo 11 minuti inizia a controllare se cuoci due teglie insieme come ho fatto io dopo 10 minuti circa scambiale di posto quella sopra mettila sotto e viceversa le frappe dovranno essere ben brunite in superficie se vedi che alcune sono pronte ed altre no allora tira fuori la teglia dal forno e togli quelle cotte quindi pronte già brunite e lascia cuocere ancora per un pochino le altre attento a non bruciarle ed ecco qua tutte le frappe cotte ora prendi una pentola e metti un po di acqua al suo interno posa su di esso una padella con all'interno il cioccolato accendi il gas e aspetta che si sciolga tutto con un cucchiaio fallo colare sulle frappe adagiate su carta forno formando dei disegni a piacere come sto facendo io poi aggiungi una spolverata di zucchero a velo o se vorrai anche delle codette colorate o ciò che più ti piace io ho utilizzato solo lo zucchero a velo spero che la ricetta ti sia piaciuta fammi sapere se la rifarai e dimmi quello che ne pensi e grazie per la visione al prossimo video ciao un abbraccio ciao 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 ciao